Buongiorno, oggi siamo qui con Davide e Alessandra. Allora Davide e Alessandra, sono una coppia con la loro famiglia che sono venuti a trovarci qui nei villaggi Florida e Pacifico e oggi vi facciamo qualche domanda sulla loro vacanza. C'è stato magari qualche aspetto dell'Italia che vi ha portato a valutare il Costa Rica e poi a fidarvi successivamente a noi di Villaggi Florida e Pacifico? Sì, in realtà era una cosa alla quale avevo pensato diverso tempo fa, prima ancora che arrivasse Alessandra, che arrivasse i figli e tutto perché avevo pensato ad un trasforimento, poi è una cosa che è naufragata lì insomma, però era rimasta questa voglia di tornare per visitarlo e ci siamo decisi quest'anno e abbiamo portato figli e tutto, anche per dare un'occhiata, per valutare per il futuro se può essere una meta dove poi stabilirci. Tu invece ti sei affidata, ti sei affidato di tuo marito? Mi sono affidata sì, anche perché una volta fatta la riunione ci hanno fatto venire questa voglia insomma di vedere il posto e quindi abbiamo deciso di partire per questa avventura. E adesso che vi siete affidati a noi di Villaggi Florida e Pacifico siete contenti? Vi siete trovati bene con il nostro staff, in particolare con Mattia che poi insomma vi ha seguito lui? Se vi siete pentiti? Se le vostre aspettative sono state soddisfatte? No, no, pentiti assolutamente no, anzi con lo staff ci siamo trovati benissimo, con Mattia che ci ha seguito dall'inizio proprio perché è con lui che io ho avuto il primo contatto, ma poi anche qui insomma, poi gli altri ragazzi, tu, Sergio, tutti è stata una piacevole sorpresa ecco, una ottima organizzazione, infatti stiamo visitando diversi posti tutti i giorni grazie anche insomma alla vostra organizzazione di disponibilità. Bene, sono tante realtà, anche tu la pensi così ti sei trovata bene con noi? Certo, di venire affiancati da voi, soprattutto per la prima volta che uno viene, ti dà molta sicurezza e fiducia. Bene. Per ritornare non ne abbiamo ancora parlato così, stiamo valutando l'altro aspetto di cui ci avevano già parlato in Italia ma che è stato un pochino più sviscerato qui come argomento che è quello relativo agli investimenti e la possibilità eventualmente anche di acquistare un immobile che è un altro aspetto che non conoscevamo e che insomma è piuttosto interessante ecco, sì. Bene. E su Costa Rica ve l'aspettavate così diversa? No, tutto sommato insomma ci eravamo un pochino documentate anche prima vedendo video quindi ce l'aspettavamo così, tantissima natura, belle spiagge. E c'è da anni che ti prepari, quindi sapevi tutto. Sono arrivato quasi pronto, quasi pronto. Tu anche? Sì, sì. Ti è piaciuto il paese? Sì, 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 è molto bello, molto verde, un sacco di natura e quindi... Anche la gente, non ultimo la gente insomma disponibile e poi un clima di tranquillità. Di pura vita? Sì, sì, esatto. Bene, ok, sono contenta, allora io spero che la vostra vacanza finisca bene, che ci rivediamo molto presto qui e niente, un bacio. Ciao a tutti, pura vita. Grazie, grazie a voi.